Aspiranti fotografi buongiorno e benvenuti. Oggi come potete vedere RCE che è il mercato di usato fotografico più grande d'Italia mi ha mandato un nuovo pacchettino. Al suo interno c'è qualcosa di davvero davvero particolare. Infatti gli ho chiesto di mandarmi una reflex super 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 entry level. Volevo tornare agli albori. Sì perché avevo una domanda nella testa che mi tormentava e per avere una risposta precisa farò un esperienziale in esterna e poi guarderemo insieme le foto realizzate al computer. Ma vuoi sapere di quale domanda si tratta? Bene seguimi. Aspiranti fotografi buongiorno oggi siamo a fare un nuovo video perché vogliamo rispondere a una domanda che mi è stata fatta. Non è vero nessuno mi ha fatto questa domanda però mi è venuta a me farla. Una persona che inizia oggi con una macchinetta di quelle diciamo insomma quelle un po' plasticose entry level proprio basic super basic può fare belle foto? La risposta è? Stata che giro. Qual è la risposta Saretta? Qual è? Aya non mi fa correre. Certo che si può. Se si è Michael Bertolati si può tutto. Bene la risposta era proprio questa. E invece no. E invece no in realtà non lo so se si possono fare belle foto. Noi ci proviamo. Infatti mi sono fatto recapitare direttamente a casa mia questa bellissima Canon 1100D con il 1750 della Tamron che anche lui diciamo è un obiettivo entry level. Non proprio entry entry però più o meno insomma. Quindi cosa faremo oggi? Le foto a Saretta. Però tutta questa parte la registro dopo. Dai Saretta facci l'occhionino ti prego. Adesso ti faccio sentire un fischio. L'hai fatto ispirando? Ma come fai ispirando? Scusami. Ma è difficilissimo. Non riesco. Possiamo anche andare a fare le foto. Stiamo andando in un bosco vicino a casa mia con tutti questi fiorellini bianchi e molto carini. E faremo un set lì per vedere appunto se questa macchina potrà trarre foto buone o se invece no. Vediamo. Stai carica Saretta? Fammi un fischio. No! Ma che schifo? Ma dai riuscivo a farlo. Caricami uno di prima. Non posso parlare ai miei follower non se lo meritano. Vabbè dai non è male. Cos'è successo il biscottino? Oh eccoci in location. Sei contenta Saretta? Fammi un urlo. Bello vero? Hai visto in che posticino ti porta? Eh non penso. Come potete vedere brisaie di fiorellini biscottini felice perché può farla dove vuole e noi qui faremo il nostro set. Pronta per partire? Sì però devo camminare a piedi nudi. Saretta guarda le scarpe. Sei bellissima però le scarpe. Saretta fa parte dell'outfit le scarpe. La scorsa volta mi hai fatto sedere giù per terra tra i verni. Adesso mi puoi mettere qua. Per bella vuoi apparire? Un poco devi soffrire. Ecco bene. Bravissima cucciola. Allora anzitutto vediamo un po' di criticità a cui potrei andare incontro oltre le scarpe di Saretta. Anzitutto questa è una reflex e io non sono più minimamente capace di scattare con una reflex perché ormai è troppo tempo che scatto con una mirrorless. In più tutti i comandi saranno spostati e anche qui dovrò capire bene come funziona. Dovrò fare affidamento sull'esposimetro cosa che ultimamente con le mirrorless non faccio praticamente più perché con le mirrorless tu già vedi la foto come viene in camera. Perciò insomma tornare a usare il vecchio buon specchio. Vediamo se porterà dei risultati di livello. Adesso iniziamo a fare qualche foto e insomma scopriamolo insieme. Allora abbiamo fatto i primi scatti per orientarci anche con la macchina. Anzitutto è un casino. Allora vabbè la raffica lentissima ma neanche a parlarne. Scatto in singolo che faccio prima. Punto di messa a fuoco ne ha solo quanti sono? 9 o forse meno? Dopo li conto non so quanti siano. Comunque molto pochi e non so neanche come si facciano a cambiare non riesco a capire non riesco a trovare il pulsante giusto. Perciò cosa faccio? Il punto è sulla messa a fuoco centrale che peraltro è quella più veloce e non è velocissima quindi figuriamoci gli altri. Metto a fuoco sulla parte centrale e poi ricompongo la foto e scatto. Poi questo è un 1750. Sto scattando principalmente a 50 da sfruttare al massimo il diaframma 2.8. In questo modo insomma gli scatti dovrebbero venire il più possibile con sfoccato. Tutto bene? Ok adesso ne facciamo altre. Allora come vedete l'elegante saretta è distesa in un prato di ortiche e fiori bianchi ed è molto felice della cosa vero? Sì sì molto entusiasta. Molto entusiasta. Allora qual è lo scopo di questo shooting? Ho detto beh grazie al vestito e la posa e tutti i colori così ho detto facciamo un po' di foto. Avete presente tipo quelle di gente affranta nei campi buttati lì? Ecco facciamo questa roba qui. Sei contenta? Sono contenta anche se devo far finta di essere affranta. Esatto. Niente stiamo aspettando che il sole vada via perché come vedete c'è questo brutto sole qui sul viso di lei che non è per niente da persone affrante e quindi aspettiamo perché è l'unico posto in cui non ci sono le ortiche. Non ci sono le ortiche è un pallone. Però anche lì non ci sono le ortiche. Forse. Allora allora altri problemi che ho riscontrato vediamo. Beh anzitutto tipo per un po' ho scattato leggermente sottoesposto perché non sto guardando l'esposimetro troppo preso dalla composizione fotografica e dal mood. Non l'ho guardato e giuro che sono arachnofobico però non so negli anni mi è passata questa cosa. Alla fine trovo anche che sia carino. Però se so dov'è. Se non so dov'è. Vabbè. Allora dicevo quindi la raffica appunto è un po' lenta però la qualità delle foto per lo meno vista qua non è così male. Insomma poi giudicherete voi. Adesso facciamo ancora un po' di foto qui sempre in queste pose un po' così un po' drammatiche e poi vediamo cos'altro fare. Siamo carichi a mille. Io continuo ad essere affranta. No sono carica anch'io. Sono tarani. Dicevo che praticamente non so se si vede ma c'è Misco là che fa da guardia al nulla. Bravo Misco. Qualsiasi cosa succeda. Tu avvisaci. Bravissimo. Allora ragazzi abbiamo pochissimo tempo per fare le ultime foto e Saretta non si vuole sdraiare nel nel prato fiorito. È bello di capi. Ortiche. Rari. Sì 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 sì. Votate. Ditemi. Ditemi voi se lei si deve sdraiare nel prato fiorito per gli aspiranti fotografi di tutta Italia oppure andare a casa così senza le foto che noi vorremmo avere. Votate. Ditemi voi cosa deve fare la Saretta. Ditemi voi se ormai lo fareste. Miscottino secondo te cosa avrà risposto Saretta? E ovviamente si è sdraiata Saretta. Bravissimo Saretta. Fermai qua qua. Mamma mia vieni qui cucciola. Ok abbiamo fatto altre foto. La singone di Saretta. No no non sei neanche sporca. Bravissima Saretta. Allora ragazzi devo dire che tutto sommato non è andata poi tanto male. certo ha una raffica indecente. Probabilmente neanche ce l'ha non lo so. Ha un autofocus un po' scadente. Però insomma secondo me a livello di file non sono male. Adesso facciamo una cosa. Vado a casa. Controllo sul pc e li guardiamo insieme. Vediamo un po' cosa è successo. Va bene? Va bene. Ma prima. Ciao Saretta. Ciao 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 ciao. Grazie di tutto. Grazie di tutto. Saluto i tuoi followers. Ciao followers. Guardate cosa ho fatto per voi. Cioè con questo veramente dovete premiarci. Più di tutto Michael ma soprattutto me. E è un po' che mancavi sul canale. Sì sì effettivamente ma perché l'attesa del piacere è se stesso piacere no. Uuuuh.